Come si temeva oramai da giorni è stato ritrovato senza vita e intorno alle 9.30 del 24 novembre il corpo dell'82enne Giuseppe Pertosa scomparso dopo essersi inoltrato alla ricerca di funghi nel bosco Spinapulci, in agro di Sanicandro Garganico, lo scorso 16 novembre. A rinvenire il corpo in una zona particolarmente impervia della foresta, alcuni parenti e amici durante una battuta di ricerca isolata. Non si conoscono ancora i particolari del ritrovamento e della ricostruzione di quanto accaduto al povero anziano, ma con ogni probabilità l'uomo è stato colto da un malore. Nei giorni scorsi su un lato del canale Lampione erano stati recuperati, non distanti dalla sua auto, alcuni effetti personali riconosciuti dai familiari. Le ricerche coordinate dai carabinieri e dai vigili del fuoco e che hanno visto il coinvolgimento del centro operativo del comune di Sanicandro Garganico e di molti volontari conoscitori della zona sono proseguite per giorni, interrotte solo temporaneamente a causa del maltempo martedì 21 novembre e impiegando tutti i mezzi e le risorse disponibili, cani molecolari, droni, un elicottero e il supporto dei sommozzatori, dei vigili del fuoco.